Sì, tesoro, sono io. Stai bene, papà? Sto bene, sto bene. Non parlare, ascoltami, può cadere la linea, capito? Svelta. Prendi carta e penna. Danny! Adesso no, zia Carrie! È tuo padre! Sì, sì! Danny! Do-do mio sei, Brody? Ecco, ce l'ho! Siamo precipitati. Scrivi quello che ti dico e contatta la Trailblazer immediatamente. Va bene. Siamo su un'isola, da qualche parte nell'arcibelago di Holo, nel mare di Sulu. Siamo rimasti senza radio. E non so su quale isola siamo. No, aspetta! Fermo! Ma...